ok ragazzi siete una moglie russa e avete un marito al fronte che si nutre più o meno così ok ragazzi oggi ci facciamo un sandwich abbiamo preso una patata cruda l'abbiamo tagliutata a pezzi molto fini e ci abbiamo messo su un pochino di aica ci aggiungiamo un po di sale e notate quanto è igienico il bicchiere con dentro il sale non abbiamo nulla per cuocerlo ma dato che siamo affamati lo mangiamo lo stesso questo invece è il cibo del nemico che abbiamo trovato quando abbiamo preso la posizione in pratica gli ucraini hanno lasciato indietro della maionese già aperta ok ragazzi quando vi ritirate ricordatevi di lasciare solo cibo andato a male abbiamo dei seri problemi con il cibo più o meno una specie di cibo ce abbiamo ma è davvero poco buon appetito ok deve essere tremendamente affamato perché dice gran bel panino mentre il suo socio che sta registrando dice io invece lo provo con la mostarda e naturalmente a questo punto qualcuno potrebbe dire ma avvocato non è che manca qualcosa questa dieta i soldati per esempio come dove si procurano le proteine meglio se lo scoprite da soli sto provando a cuocerlo naturalmente vicino a proiettili granate insomma la cucina esattamente come dovrebbe essere ora ragazzi se riuscite a distogliere un attimo lo sguardo da quei proiettili e quelle granate molto vicine alla fiamma potreste notare che quello che stanno provando a cucinare è un uccello di dimensioni relativamente contenute ecco ne è un altro e se vi state chiedendo che cosa questi due soldati stanno cucinando la risposta è un piccione comunque ricapitolando quando la moglie di un soldato russo riceve nel cuore della notte una telefonata dalla concessionaria della Lada che deve darle una tremenda notizia secondo voi che cosa potrà mai andare storto? sì chiaramente il marito non ce l'ha fatta e l'ultimo piccione gli è stato letale ma la tremenda notizia è un'altra scopriamola insieme questa è la configurazione base a parte l'aria condizionata e la chiusura centralizzata non c'è assolutamente nient'altro francamente non capisco dove è il problema come diceva il grande Ford quello che non c'è non può rompersi non c'è l'SP, non ci sono i sensori di parcheggio, non c'è la telecamera posteriore, non ci sono neanche gli specchietti sui parasole sul parasole manca anche la tasca, le cinture di sicurezza non sono regolabili in altezza il compartimento per i guanti non ha la luce, non ha neanche il regolatore di apertura non c'è neanche il bracciolo ma questa è la configurazione di base e a questo punto potreste domandare ma avvocato quanto costa la configurazione di base? te la tireranno dietro quell'auto? costerà quanto? 6.000 euro equivalenti? 5.000? alle maniglie nere con le serrature ovviamente non ci sono sensori di parcheggio non c'è neanche la telecamera posteriore ok ripeto è arrivato il momento della verità secondo voi un veicolo del genere quanto costa in russia? il prezzo di questa configurazione è pari a 1.459.000 rubli equivalenti più o meno a 15.000 euro cioè ragazzi 15.000 euro per un mezzo che non ha nessuna delle misure di sicurezza che sono state introdotte dagli anni 80 in avanti e che non ha neppure l'auto radio in pratica costa quanto una delle nostre auto ma dato che in russia gli stipendi sono circa la metà dei nostri se ti va di lusso i vivi e i lavori dalle parti di san pietroburgo e mosca quell'auto ti costa esattamente il doppio quella Lada versione base che qui da noi non avrebbe mercato ti costa quanto un'auto da 30.000 euro ti costa l'equivalente di una Honda Civic oppure di una Volkswagen Golf e naturalmente se l'auto vi costa così tanto provate a immaginare quanto può costarvi un appartamentino soprattutto se non potete pagarlo in contanti ma dovete fare un mutuo ora come sapete in russia se depositate dei rubli in banca vi danno il 21% di interesse ma ovviamente se siete voi a dover prendere in prestito il denaro la percentuale di interessi che dovete restituire alla banca è sensibilmente più alta e arriva addirittura in alcuni casi a sfiorare il 43-45% annuo in pratica un appartamentino semiperiferico da 50 metri quadri non calpestabili che poi si riducono effettivamente a 30 metri quadri utilizzabili del valore di circa 12 milioni di rubli equivalente a 120.000-125.000 euro con un mutuo ventennale ve lo fanno pagare più di 100 milioni di rubli in pratica pagate i 12 milioni di rubli originali cioè i vostri 120-125.000 euro più altri 93-94 milioni di rubli per interessi praticamente circa 900.000 euro erotti di interessi per acquistare un appartamento del valore di 125.000 euro cioè ragazzi questo è proprio il momento giusto per trasferirsi in russia detto fra di noi non è che alle banche piaccia speculare e che il momento per i russi è davvero difficile oltretutto per quanto riguarda i prestiti e i mutui c'è una legge russa che vieta di riscuoterli o meglio congela tutti i mutui ai militari quindi in pratica se tu sei un militare e vai al fronte nel periodo in cui sei in servizio non sei tenuto a ripagare il debito con la banca e questo naturalmente incide pesantemente sulla situazione immaginate di avere un centinaio un migliaio di mutui aperti e voi siete la banca e di non poter riscuotere un singolo rublo di rata perché i tuoi mille debitori bippardi si sono fatti convincere dalle mogli ad arruolarsi a finire in prima linea e naturalmente anche chi non va ad arruolarsi farà molta più fatica a pagarti perché o lavora nel settore militare e allora la paga è buona o lavora nel settore civile ma se lavora nel settore civile verosimilmente la sua impresa avrà qualche difficoltà farà fatica a pagare i dipendenti fra le altre cose il dipendente farà fatica a pagare il mutuo anche perché quando va a fare la spesa si ritrova il burro aumentato del 25% nell'arco di uno snap tutti i cibi costano più cari la quantità è più piccolina eccetera 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 e in una nazione dove ripeto arrivi già a malapena alla fine del mese un rialzo dei mutui di questo tipo è più che sufficiente per rovinarti letteralmente e la situazione peggiorerà ulteriormente perché a dicembre la Nambiullina e cioè la governatrice della banca centrale russa ha già annunciato che bisognerà alzare ulteriormente i tassi di interesse in pratica a breve in Russia sarà impossibile acquistare casa se qualcuno l'ha acquistata a tasso variabile praticamente quella casa è già persa fa prima lasciare che finisca all'asta e ovviamente diventa anche impossibile fare impresa perché a questo punto se hai qualche spicciolo da parte invece di investirlo ti conviene metterlo in banca e portarti a casa senza alcuno sforzo il 21, 22, 23% vedremo quello che sarà di interessi senza dover rischiare un solo rublo mentre viceversa se cerchi di fare impresa e hai bisogno di un prestito poi ti ritrovi a rimborsare il 43% in più in un anno o il 31% detto fra di noi la banca che propone l'interesse migliore per l'appunto la Sberbank che ti fa pagare solo fra virgolette il 31% di interesse bisogna vedere anche a quali condizioni te lo dai con quali garanzie comunque ragazzi consolatevi perché i russi non saranno e non sono i soli a soffrire Elon Musk si è vantato che presto anche gli americani soffriranno un po' a causa sua perché sì, il Donaldone nazionale ha deciso di nominarlo consulente per i tagli agli sprechi del governo americano e Elon ha già anticipato che darà una marea di sforbiciate che renderanno più difficile vivere anche negli Stati Uniti d'America e comunque ragazzi quando si tratta di far invippare qualcuno i russi non sono secondi a nessuno sapevate per esempio che Zio Vladi e i suoi oligarchi cercano di esportare di straforo e clandestinamente molto più petrolio rispetto a quanto loro consentito in base agli accordi dell'OPEC l'OPEC infatti si organizza per fare cartello per mantenere i prezzi entro limiti accettabili e profittevoli per tutti i suoi membri e poi arriva a Zio Vladi con la sua flotta di navi fantasma che fa dei mega scontoni a India e Cina il tutto naturalmente senza contabilizzare le vendite comunque Zio Vladi o meglio i suoi oligarchi non sono esattamente gli unici a tradire la fiducia infatti sono già stati catturati i primi soldati nordcoreani che provavano a fare delle copie del contenuto di alcuni computer militari nei quali si sono imbattuti naturalmente il fatto che avessero a disposizione delle chiavette di memoria e addirittura degli hard disk SSD e che sapessero utilizzare i computer pone direttamente questi soldati nordcoreani all'interno della ristretta cerchia delle spie e degli uomini di fiducia di Kim Jong-un in nordcorea infatti quasi nessuno sa usare i computer e per diventare un hacker o anche solo per compiere delle operazioni di base ti serve un addestramento speciale che viene fornito solo ed esclusivamente dai militari che si occupano di intelligence quindi è evidente che anche all'interno dello schieramento russo la fiducia non abbondi detto fra parentesi io mi chiedo anche che cosa pensassero di recuperare da dei computer periferici che certamente non nascondono chissà quali piani di battaglia questi soldati poi non potevano certamente operare da soli perché è chiaro che un soldato semplice una chiavetta, un hard disk SSD non lo può nascondere per molto tempo certamente dovevano essere consegnati ai loro superiori che poi si sarebbero preoccupati in un modo o nell'altro di portare le informazioni nella loro piccola grande madrepatria decisamente a sud come potete notare le guerre non si combattono solo sul campo di battaglia ma anche soprattutto con l'economia le guerre impattano nella vita di tutti i giorni anche quando sei dalla parte dell'invasore inizi ad avere problemi per gestire la tua vita non puoi più permetterti un'automobile anche versione base non puoi più permetterti di acquistare un appartamento e se l'hai acquistato con il mutuo variabile sono davvero dolori c'è moltissima incertezza economica questa incertezza economica si riflette poi anche nella società e siamo arrivati al punto che perfino Vladimir Vladimirovich è stato costretto ad ammettere recentemente che le sanzioni in qualche genere effetto sulla Russia ce l'hanno in realtà è ben più di questo è quello che lui ammette a denti stretti che è solo una piccola parte della realtà ecco perché questa guerra va raccontata a 360 gradi non sono i 10-20 km in più che la Russia guadagna perdendo però circa 1400 vite al giorno a fare la differenza non c'è solo quello il sistema è complesso e noi dobbiamo iniziare a capire esattamente come funziona anche per fare in modo che venga ripristinata la pace una pace giusta, non una pace qualsiasi che assomiglia tremendamente a una resa e soprattutto per fare in modo che situazioni simili a questa non si ripetano in futuro lo so, gli esseri umani l'hanno già detto un mucchio di volte l'hanno già detto alla fine della prima guerra mondiale l'hanno detto alla fine della seconda l'hanno detto alla fine della guerra del Vietnam l'hanno detto alla fine della guerra fredda e siamo sempre a gestire le solite situazioni voi che cosa ne dite? come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piace il canale ricordatevi supportarlo iscrivetevi, attivate la campanella condividete il link al video sui vari social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso per voi sono solo pochi click ma per il canale significano tanto se poi volete fare in modo che il supremo algoritmo tenga ancora di più in considerazione il canale pare che abbonarsi oppure ancora diventare dei Patreon questo in realtà no, però avete lo stesso qualche trattamento extra potrebbe essere la mossa giusta se non farete assolutamente nulla di tutto ciò in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile potreste ritrovarvi ad acquistare una Lada al prezzo di una BMW e il concessionario di origine naturalmente russa cercherà di cambiare i contrassegni della Lada con quelli della BMW per imbipparvi a sangue io vi ho avvisati, poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto